Voglio salutare Alexander Yaknachev, direttore di Vista. Eccoti Alex, ben trovato anche a te, buongiorno. Eccoci, ben trovati a te e al direttore. Ben trovato. Allora, intercettazioni, momento di confronto in questo momento, soprattutto dopo l'arresto di Matteo Messina a Denaro, insomma con quella che è la posizione di Nordio, sì, per quanto riguarda terrorismo e mafia, però andiamo a declinare in maniera diversa quelle che sono le intercettazioni di Cenordio per i reati minori. Questo sta determinando ovviamente un confronto tra le forze politiche, ma anche nella società civile. Alex, mi dici la tua? Sì, il tema delle intercettazioni, ciao, il tema delle intercettazioni è tornato in auge, soprattutto dopo l'arresto di Matteo, Mattia Denaro, e le dichiarazioni del procuratore che ha seguito le indagini, che ha appunto detto che le intercettazioni hanno avuto un, sono stati elemento chiave nelle indagini e quindi hanno portato alla cattura. Questo ha portato subito al dibattito e quindi Nordio che ha subito detto che non saranno toccati per quanto riguarda la mafia e il terrorismo. Però io porrei l'accento anche su un altro tema che ha toccato il ministro, ovvero il costo delle intercettazioni. Nordio ha detto che costano, il costo della lentezza della giustizia, e Nordio ha detto che costa circa 2% del PIL, quindi parliamo di una cifra intorno ai 40 miliardi, una nuova finanziaria per intenderci, e questo legato anche ai dettami del PNRR che ci impone di dimezzare praticamente i tempi della giustizia, quindi le intercettazioni all'interno di una riforma della giustizia che deve però tener conto anche di uno sveltimento dei processi e quindi anche di un costo minore. Mentre parlava il direttore, l'abbraccio ai carabinieri nel momento dell'arresto, nel momento in cui lo hanno portato anche in procura, è un fatto importante, un fatto storico. L'altra cosa che mi ha fatto impressione è che la Premier Meloni subito dopo la notizia ha stravolto i propri programmi, ha preso l'aereo e già stava a Palermo. Prima ha reso omaggio alle stele alla strage di Cavaci e poi si è recata a ringraziare i carabinieri. Ha proposto questo giorno, giorno che dovrebbe essere il 16 gennaio, di celebrazione del lavoro di chi non solo in quelle occasioni, ma che ogni giorno lotta contro la criminalità organizzata. E questo secondo me è un altro tema importante, Roberto, non ricordarci solo nei momenti clou di questi temi, ma ricordarci che è un giorno quotidiano, certosino, per portare a casa dei risultati. Sì, io il governo lo vedo forte in questo momento. Diciamo lì sulla benzina, secondo me va fatto anche un altro ragionamento. E' chiaro che le accise incidono molto, ma c'è sempre nella formulazione dei prezzi, che è un fatto complesso, sicuramente anche un aspetto di speculazione, ma anche un aspetto, se possiamo definirlo così, psicologico di andamento. E' chiaro che fino a quando io Stato continuo a subvenzionare, a dare una cosa fissa, o comunque a togliere le accise, è chiaro che la benzina va avanti in un certo modo. Nel momento in cui io tolgo questo sostegno, la benzina schizza, ma nello stesso tempo, poi secondo me nel tempo, si regularizza e potrebbe anche scendere. Quindi secondo me non è da sottovalutare anche l'aspetto psicologico della certezza dell'aiuto di Stato in tutti i momenti. E questo l'abbiamo anche visto negli anni. Poi sì, come diceva Giorgia, alle 10.30 c'è questo incontro, con il terzo polo del ministro Casellati, perché è l'altro tema, archiviata la legge di bilancio, e diciamo nel mentre parliamo delle accise, è quello delle autonomie. Le autonomie sono due sostanzialmente i temi. L'autonomia differenziata, dimmeli velocemente Alex. L'autonomia differenziata, che è molto cara alla Lega, e il presidenzialismo che Giorgia Meloni ha invece ribadito in tutti i modi, che è uno dei temi principali dei cinque anni.